Dopo la pallacanestro sto studiando per diventare psicologa. Di siciliano quanto ho imparato? Diciamo che sono ancora alla fase comprensione. Preferisco magari ascoltare, quando sono lontano da casa, Davide van des Fros, che è un artista del mio paese. Comunque canta in dialetto del lago, dialetto laghe. La poesia mi illumino d'immenso. Coppetta. Carne. Carbonara. Grazie. 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 Grazie a tutti.